good morning juventus o forse dovrei dire bad morning juventus e juventini sì sì perché signori io fortunatamente attingo da mie fonti perché se dovessi fidarmi di tutto ciò che leggo ci sarebbe veramente da toccarsi i cosiddetti zebedei oggi voglio portarvi una cosa che ho letto in un paio di siti anche di un certo insomma spessore non li cito perché non vorrei che si scatenasse il putiferio contro allora ascoltate bene voi avete visto che in copertina ci sono tre giocatori forse due li conoscete benissimo e uno magari un po meno sono morata lusamblaovic e renan lodi voi mi chiederete cosa ci fanno tutti e tre in copertina questi qui ci fanno che allegri sì proprio lui quello che stasera si giocherà la finale coppa italia e poi ci sentiremo dire sia vinto che è stata una stagione per l'ennesima volta la juventus ha portato a casa un trofeo no dagli allegriani dimenticandoci che la juventus lotta per vincere lo scudetto non per vincere la coppetta italia unica consolazione sarebbe vicere perché battiamo l'inter basta stop chiuso perché per il resto per me è già una stagione fallimentare che si vinca che si perse perde poi lasciamo perdere e allora dovete sapere che queste testate io le chiamo giornalistiche perché sono registrate regolarmente quindi non sono così persone che si svegliano la mattina al bar e sparano su sciocchezze oppure qualche youtuber impazzito o qualche social patico che scrive cagate no proprio sono dei siti e parlano del fatto e quindi immagino che se la notizia è stata data abbia un fondamento io mi auguro che non lo abbia il fondamento però mi sono spaventato perché so che la prima cosa che vi dico è vera ovvero la prima cosa che 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 vi dico è che allegri ha grande stima di morata e già questo dovrebbe bastare per capire perché non voglio più allegri seduto sulla panchina di momento perché uno che ha stima di una pippa secondo me è pericoloso è molto pericoloso perché mi pare che ormai sia abbastanza acclarato che morata una pippa ha fatto più gol di bala che praticamente non ha mai giocato fate questo questo questa equazione di bala che è mancato praticamente per mezzo campionato ha fatto più gol di morata morata è mancato mi pare due partito tre e tutto cioè quindi voglio dire due fa quattro in proporzione ha fatto più gol bonucci di morata non mi sembra che bonucci sia un centro avanti chiusa parentesi ebbene ebbene questi siti che per la precisione sono tre quindi non uno ma tre sostengono che ci sarebbe intavolato una trattativa per rifarvi maniere morata alla juventus quindi l'atletico madrid ci lascerebbe morata ci darebbe il terzino di fascia sinistra renan lodi ottimo giocatore sarebbe un ottimo acquisto ci darebbe un conguaglio economico non è stato specificato quanto meno male facciamo le dita per vlaovic allora signori io mi auguro che sia una delle tante bufale che si leggono tutti i giorni per riempire spazi del web per riempire foglie di giornale o per riempire spazi del letter in tv spero me lo auguro perché se soltanto questa trattativa viene messa in piedi io ve lo giuro ve lo giuro io l'anno prossimo continuerò a fare lo youtuber juventino ci mancherebbe altro ma sarò lo juventino youtuber più incazzato del pianeta terra non farò passare neanche una virgola alla società e ad allegri al minimo errore se fanno una puttanata del genere perché non posso usare un altro aggettivo è una puttanata sesquipedale come dice il mio amico maletto ok signori non si può tenere un brocco sacrificare un potenziale campione come dusan vlaovic perché l'atletico madrid non te lo fa pagare te lo trovi già in casa e dai via vauvic che è stato l'investimento più più diciamo oneroso di gennaio della storia della juventus e in prospettiva un centroavanti che ti potrebbe garantire otto anni di gol e di soddisfazioni allora io ripeto lo sottolineo ancora una volta è una notizia che non proviene da me e di cui mi dissocio completamente e mi auguro che siano una delle bufale perché ripeto se questa trattativa è vera è vera c'è da fare subito ma subito ma subito non perdere neanche un millesimo di secondo c'è da fare un tseo sanitario a massimiliano allegri e a quelli che lo accontentano se dovesse andare in porto questa operazione perché è una roba che non sta né in cielo né in terra al di là che possa piacere o non piacere morata chiaro che ci sono persone che amano le donne brutte e hai capito o che puzzano e quindi non è che posso pretendere pretendere che a tutti non piaccia morata qualche pazzo furioso in giro per il mondo ci sarà che adora morata no ok che magari preferisce addirittura morata vlaovic ma le persone sane di mente le persone lucide sanno benissimo che non c'è paragone fra morata e vlaovic proprio non c'è ma minimo paragone proprio quindi se dovesse andare in porto questa cosa ripeto mi auguro che sia una bufala veramente preparatevi perché l'anno prossimo cioè appena finisce la stagione non appena dovesse verificarsi questa cosa che per me sarebbe una catastrofe sarebbe una catastrofe io veramente diventerò lo youtuber più cattivo più bastardo nei confronti della juve che voi avete mai visto perché non si può neanche pensare una cosa del genere non farla non si può neanche pensarla una cosa del genere vuoi renan lodi lo paghi va bene va bene vuoi tenerti quella pippa di morata lo riscatti ma vlaovic non si tocca vlaovic non si tocca dopo il good morning di ieri dove c'è ventilata la possibilità quella vera ahimè vera di dare fagioli alla lazio per avere milinko vissavis con uno sconto di sul prezzo oggi salta fuori questa allora ripeto preparatevi perché adesso fino appena ci sarà la raduno e qualche anche qualche settimana dopo ne leggeremo e ne leggerete di tutti i colori io starò molto attento perché adesso nel mio format che partirà dal primo di giugno che si chiamerà calcio mercato news darò conto anche di queste notizie non darò solo le mie quelle che dirò queste sono mie e adesso vi dico le stronzate o le voci che ci sono in tv sui giornali nei social tutti sarà un format nuovo ricchissimo dove dirò la mia e farò dire la loro anche a ospiti di rilievo quindi signori io vi saluto spero di non avervi rovinato la mattina visto che sono le 6 quando vedete questo video molti di voi lo vedono le 6 oppure alle 7 le 8 durante la giornata perché veramente questa sarebbe la più grossa stronzata che la juventus abbia mai fatto in tutta la sua storia good morning o bad morning juventus